Se quello che ti salta è mente tu, sinceramente lo dici in un solo interlocutore, allora è una questione. Ma se la stessa cosa ti scappa per caso in mondo visione, quello che hai detto poi verrà fiscerato, mangiato e cagato. Con ogni sua molecola e in ogni sua più piccola particella, verrà ricomposta in milioni di modi diversi e perversi, al quale ognuno darà il proprio significato malato, su quale ognuno metterà una piccola parte del proprio cuore. Razionale Non dire a nessuno mai quello che fai quando lo fai Non dire a nessuno mai perché lo fai Non dire a nessuno mai quello che fai quando lo fai Non dire a nessuno mai perché lo fai Non dire a nessuno mai perché lo fai quando lo fai andando e non sentire a nessuno mai perché lo sfusiamo nel tutto sorriso. Non dire a nessuno mai quello che fai quando lo fai Non dire a nessuno mai perché lo fai Non dire a nessuno mai quello che fai quando lo fai Non dire a nessuno mai perché lo fai